Questo a SVG di lavorare per noi ci ha fatto un sottaggio esclusivo proprio ragionando su una serie di cose che stanno a curare gli italiani compreso il giudizio sull'Europa Gerardo Greco, che è l'uomo che spiega le cose ci racconta un po' cosa è venuto fuori che è molto interessante, secondo me, Gerardo Gli italiani e l'Europa Allora, Mitta, lasciami partire da aprile di quest'anno Aprile 2020, come vedete, secondo SVG la fiducia degli italiani nell'Europa è bassissima è al 27%, è il punto più basso, dice SVG che ha lo storico di tutti questi rilevamenti degli ultimi dieci anni Passano tre mesi Eravamo chiusi in casa e l'Europa non dava grandi segnali No, chiusi in casa, c'era pandemia piena eravamo lontani dall'Europa pensavamo di esserlo, quantomeno Passano tre mesi l'Italia ottiene un'apertura di credito evidente nei confronti dell'Europa con il recovery fund con questi 209 miliardi di cui parla Salvini e a quel punto la fiducia nell'Europa cresce guadagna all'improvviso ben 13 punti arriva al 42% Inutile girarci intorno è chiaro che più si allentano i cordoni della borsa europea e più il nostro gadimento sale è evidente che 209 miliardi servono Salvini parlava del futuro dell'Italia servono a disegnare il futuro di generazioni di italiani chi deve farlo però? Chi deve deciderlo? E questa è la seconda domanda e questo ovviamente tocca il grande tema di questi giorni e cioè la task force messa in piedi dal presidente del consiglio su cui forse c'è anche la spaccatura di questo governo il rimpasto eccetera il 37% ritiene che la gestione del recovery fund debba essere assegnata proprio al presidente Conte a due ministri a questa task force di sei manager e qualche centinaio di funzionari Un altro 37% però ritiene e dà ragione a Salvini questo che la gestione deve essere in qualche modo appaltata a un gruppo di politici esponenti sia di partiti di maggioranza che dell'opposizione però il problema non è soltanto quello della governance cioè chi deve fare chi deve decidere ma è anche che cosa bisogna fare e qui c'è forse un segnale interessante perché in teoria ad oggi secondo la bozza del recovery fund il 37,9% di questi 209 miliardi va alla rivoluzione verde il 25% più o meno alla digitalizzazione infrastrutture e sanità 4,6% abbiamo chiesto che cosa ne pensino gli italiani e si ribalta completamente il risultato nel senso che il 75% diciamo 75 intervistati su 100 dicono che è prioritaria guarda un po' la sanità poi la ricerca e l'istruzione la riduzione delle tasse il 50% il 43% la digitalizzazione e l'innovazione c'è anche una cosa sul MES un altro dei punti fulcro del dibattito politico dobbiamo prenderlo o no? questo benedetto MES 37 miliardi resi disponibili come prestito dall'Europa a tassi molto agevolati c'è un'inversione di tendenza a maggio era il 36% che diceva sì adesso è il 40% viceversa il no era il 44% a maggio adesso è il 37% la questione finale su cui però forse riflettere è il resto è il resto dell'Italia il resto delle nostre priorità l'agenda di un anno fa che sembra lontanissimo abbiamo chiesto a SVG di concentrarsi su due argomenti chiave della politica per esempio della Lega dell'attenzione della Lega cioè i timori per la sicurezza e i timori per l'immigrazione e vedete in questa curva che in effetti i timori per la sicurezza sono molto bassi a settembre 2020 23 a marzo 15 23 a maggio 2018 insomma stanno scendendo sono ai minimi storici e così per l'immigrazione il cartello successivo vedrete che l'immigrazione è interessante per il 17% del campione di SVG cioè in 10 mesi cambia molto ci sono parecchie cose interessanti appunto le priorità ma anche la task force per esempio molti italiani pensano che sarebbe il caldo secondo me la paura tremenda che non si riescano a spendere i soldi presto e bene che ci hanno tutti in questo paese perché la burocrazia è quel mostro che ben sappiamo